Velocissimo unboxing per vedere ovviamente se trovo qualcosina, ma al di là di questa è carina anche la confezione Zenith Regale di Re di Drago V. Quindi vabbè, oltre le due carte di Re di Drago V, guarda che è molto bella in realtà, è Re G, versione sostanzialmente pure questa, molto bella in realtà. Abbiamo anche la versione Jumbo, cioè gigantesca, guarda per collezione è carina, sì c'è ancora il presepe lì, molto bella, carina. E ovviamente abbiamo anche i quattro pacchetti da sbustare, oltre il codice che potete prendervi. Ovviamente forbigiazze e andiamo. Ok, primo pacchettino, andiamo insieme a scoprire le carte. Snorlax, molto carino. Absol, anche questa è veramente fatta bene. Aspetta, l'ho messa all'incontrario. Poi, Oddish, molto carina anche questa. L'herbesta, carina. Ho uno Shinx, mi sembra di averlo già trovato, con il retrocalcio. Wilmar o Wildmare, come volete dirlo. Un Mew di Galar. Martello di Rompente. Un Shamim. Amici di Sui. È un pacchetto forse un po' sfortunatello, però è energia. Niente di che nel primo, però carino gli artwork. Secondo pacchettino. Non so se ho fatto bene il trick, ma chi se ne frega. Dove sto a vedere. Energia, Psycho. Un Crocorock. Un altro Amici di Sui. Un Aspiratore perduto. Snornut. Questa è bellina, Rockluff. Che urula. Un Tangela o Tangela. Carinissimo. Un Baltoi. Un altro Mew di Galar. Un Wild Lord. Che carino questo. E infine Kiwi B. Carina. Molto carina. Penultimo pacchetto. Energia. Beh. Metango. Ok. Scambio di energia. Crocorock. Spero di averlo pronunciato decentemente. No, vabbè. Starly. Bellina questa. Oh, Scheiter. Oh, Scheiter. Oh, come si pronuncia lui. Molto bellina. Un Emoli. Guarda che puccioso questo. Suona shock. Un Cerubi. Una bella... Che è una ciliegina. Una pesca. E infine... Esquigot. Le uova. Vabbè. Come si pronuncia. Oh, un Turb. Guarda che bella questa. E... Uh... Un... Zero Arabomax. È bella questa. Guarda che figa è questa. E' bella pure questa. È l'ultimo pacchetto. Non eccezionale questo pacchetto. Fino adesso. Ma non malissimo. Cioè, comunque, alla fine ci sta. Vediamo in quest'ultimo pacco se troviamo qualche cosa. Vabbè. Energia. Un'altra doppione. Un Luneton. Mi sembra che questo non ce l'avevo. Quindi, ottimo. Un Zorok. Insomma, abbiamo avuto i due. Un'altra Tangela. Un'altra Batroy. Questo già ce l'avevamo. Un altro Mewy di Galar. Un altro Wave. Vabbiamo avanti i doppioni, questo qua. Uno Shinx. Per esempio, è diverso dall'altro. Koffing. E mi sa, stavolta abbiamo avuto poca fortuna. E un Tangrove. Non ce l'avevo, quindi, a livello collezionistico va bene, ma non eccezionalissimo. Comunque, dai, alla fine ci sta il tutto. Non male, non malissimo. Poteva andare molto meglio, ovviamente. Però, vabbè. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.